Allora, stufi di fare la fila? Sarete felici di sapere che quest'anno per iscriversi al Grest basta un click, o quasi. Andate nella sezione apposita del nostro sito e create i vostri account. Inserite i vostri dati e scegliete non utente i password, ma attenti a non dimenticarli. Una volta creato il vostro account, non vi resta che inserire i dati ai vostri figli manualmente o scansionando il QR code presente sul retto dei loro testi del auditorio, scegliere le varie opzioni e il più è fatto. Attenzione però, questi passaggi vi danno solamente una priorità. Il giorno di iscrizione infatti, vi basterà commentarti come il consueto in oratorio, gli orari previsti per finalizzare l'iscrizione. Ma niente paura, chi non sarà riuscito ad abituare queste operazioni da casa, verrà aiutato a completarle sul posto. La nostra residente são riuscontini. La nostra chine se ritaglelinei ciò che vuoi tejecti. La nostra chine se ruisse per finalizzare le sargi. Il nostro chine se ruisse a guest. Traesare l'iscrizione. Ma niente paura, chi non sarà a la nostra chine. Ma 쉽 è chi non sarà tan sporch colpare le rapide. A prestta di una börpare. Ma ciò che tiадно accade ed iscrizione al rapportax-scrizione.